ciao a tutti ragazzi allora oggi siamo con quest q 60 andiamo fa il test metal già acceso siamo in modalità park frequenza 14 qui tutto aperto non discriminato 3 toni questo lasciamo tutto com'è volume del ferro a 5 sensibilità la possiamo mettere a 95 andiamo fa l'abbattimento ok e partiamo 10 centesimi 5 cm 10 centesimi 10 cm 10 centesimi 15 cm 10 centesimi 20 cm 10 centesimi a 30 niente 10 centesimi a 40 ok ora andiamo di qua 20 centesimi a 15 20 centesimi a 25 a 25 gli spettica ma non mi dà lì 20 centesimi a 35 niente 20 centesimi a 45 niente 50 centesimi a 30 niente 50 centesimi a 50 niente 60 niente 0,2 euro 60 niente ragazzi ora andiamo sul test di separazione chiodo accanto la moneta da 20 centesimi ok due chiodi e in mezzo la moneta ok ora i quattro chiodi con i 20 centesimi in mezzo non ce la fa niente chiodo sopra la moneta da 20 centesimi ok due chiodi sopra la moneta da 20 centesimi ok ora ora andiamo di field ok allora sempre aperto modalità quattro toni rimettiamo la tre toni che è più stabile qui lasciamo com'è volume del ferro sempre a 5 frequenza 14 l'abbattimento già è stato fatto e mettiamo il gain a 97 e partiamo 10 centesimi 5 centimetri 10 centesimi a 10 10 centesimi a 15 10 centesimi a 20 10 centesimi a 30 10 centesimi a 40 niente andiamo su 20 centesimi a 25 20 centesimi a 35 niente 20 centesimi a 45 ora i 50 centesimi a 30 niente 50 centesimi a 50 ora andiamo a 2 euro a 60 niente ora andiamo in disc vediamo 20 centesimi a 90 20 centesimi a 50 20 centesimi a 50 due chiodi accanto ai 20 centesimi a 50 i quattro chiodi con i 20 centesimi a 50 niente 20 centesimi a 50 il chiodo ok 20 centesimi e sopra i due chiodi ok perfetto ragazzi e anche questo il video si conclude qua ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi